In questa puntata di Unicam News, il bello di Unicam si è concluso con una giornata dedicata alla sostenibilità. Le giornate centrali sono invece state dedicate alle eccellenze delle scuole di Ateneo. Inaugurata ad Ascoli Piceno la mostra Design Made in Marche in occasione della visita delle delegazioni Unesco. Notizie ancora positive per Unicam dall'indagine Alma Laurea sul profilo dei laureati. Buonasera e bentrovati a tutti voi a questa nuova puntata di Unicam News. Questi i titoli li abbiamo sentiti ma vediamo subito il primo servizio. Si è conclusa con successo la seconda edizione di Il bello di Unicam, una settimana di incontri e conferenze fortemente voluta dal rettore Claudio Pettinari e dedicata alla valorizzazione delle eccellenze dell'Università di Camerino. La giornata di chiusura è stata dedicata a Il bell'ambiente ed ha visto la partecipazione tra gli altri del vice ministro all'istruzione all'Università e alla ricerca Lorenzo Fioramonti che sta molto facendo affinché le università e gli enti pubblici di ricerca promuovano la causa dello sviluppo sostenibile. E poi è presente anche il sottosegretario del Ministero per i beni e le attività culturali l'onorevole Gianluca Vacca. I lavori sono stati aperti e coordinati dal rettore Unicam Claudio Pettinari. Siamo perfettamente consci che il pianeta sta soffrendo. Di fronte al nostro pianeta non ci sono molti anni di sopravvivenza se continuiamo a operare come abbiamo operato in passato. Purtroppo forse non c'è grande presa di coscienza del rischio che stiamo correndo e che correranno probabilmente i nostri giovani. Dobbiamo pensare ad uno sviluppo sostenibile, ripensare anche il nostro modo di vivere, ripensare il nostro modo di lavorare, il nostro modo di essere comunità, il nostro modo di fare economia. Mi rendo conto che ancora purtroppo nei nostri ambienti e anche tra i giovani alcune parole non sono note. La nascita dell'ASVIS ad esempio nel 2016 è qualcosa di cui i nostri ragazzi non erano stati portati a conoscenza. Ebbene invece questa associazione per lo sviluppo sostenibile sta lavorando, sta lavorando bene, ne sta guardando quelli che sono gli obiettivi dell'agenda 2030. Ecco anche le nostre ricerche e questo ci tengo a dirlo andranno in quella direzione. Cercheremo di far sì che la ricerca unica sia sempre orientata verso uno sviluppo sostenibile. Magari daremo un premio a chi si farà interprete di questo. L'impegno del governo è quello di mettere la questione dello sviluppo sostenibile al centro di tutte le politiche, a partire dalle politiche economiche e di sviluppo industriale. Il primo ministro Conte ha firmato questa settimana un decreto che crea una cabina di regia che si chiama Benessere Italia e che servirà per coordinare tutte le politiche dei vari ministeri allo scopo di raggiungere lo sviluppo sostenibile. Come Ministero della pubblica istruzione dell'Università della Ricerca abbiamo già più volte indicato alle università, alle scuole che bisogna diventare modelli di sostenibilità e quindi gli studenti devono essere messi nelle condizioni di poter imparare cosa significa essere sostenibili non solo teoricamente ma anche praticamente con delle pratiche concrete che vanno dall'utilizzo delle risorse all'interno delle università ma anche attraverso corsi di laurea, corsi di formazione dedicati alla sostenibilità. Nel corso della mattinata sono state presentate le iniziative di Unicam per la sostenibilità ambientale quali una linea di merchandising, materiale riciclato ed ecologico ed una borraccia interamente realizzata in materiale biodegradabile che permetterà agli studenti a quanti vorranno acquistarla di limitare l'utilizzo della plastica. Uno studente Unicam, Nicola Miconi, ha inoltre redatto e letto un documento, il Diario 2030 dello studente sostenibile, in cui sono indicate dieci piccole ma grandi azioni che possono fare la differenza a livello ambientale. Potremmo definirlo un manifesto in cui abbiamo stilato una decina di punti da cui gli studenti universitari potrebbero trarre spunto per rendere un po' più sostenibili la loro routine universitaria, la loro vita universitaria. Piccoli gesti come fare attenzione allo spreco d'acqua, piccoli cesti quotidiani che potrebbero sembrare veramente un granello nella sabbia, ma se sommiamo questi granelli poi diventa una grande cosa. E quindi di non considerare i loro piccoli cesti come qualcosa di insignificante, ma di inserire i loro piccoli cesti, di considerarli come un tassello e inserire in un grande puzzle. Dopo l'evento inaugurale dedicato alla contaminazione dei sapieri, le giornate centrali del Bello di Unicam, la settimana di incontri e conferenze fortemente voluta dal Rettore Pettinari e dedicata alla valorizzazione delle eccellenze dell'Università di Camerino, sono state invece dedicate alla presentazione delle scuole di Ateneo. Sia al mattino che nel pomeriggio si sono alternati eventi coordinati dalle scuole di giurisprudenza, scienze e tecnologie, architettura e design, bioscienze e medicina veterinaria, scienze del farmaco e dei prodotti della salute e School of Advanced Studies. Poi sono intervenuti sia docenti che studenti Unicam per illustrare i numerosi progetti di didattica e di ricerca che le scuole stanno seguendo. Docenti ed esperti di altre realtà universitarie hanno presentato non solo le attività e le iniziative realizzate in collaborazione con l'Università di Camerino, ma anche quanto di bello e positivo c'è nella comunità scientifica italiana. In occasione della visita ad Ascoli Piceno delle delegazioni UNESCO per l'Annual Meeting UNESCO Creative Cities è stata inaugurata presso la Pinacoteca Civica la mostra Made in Marche, il bello, i miti, i maestri. Esposizione organizzata dalla Scuola di Architettura e Design di Unicam in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno, l'Associazione per il Disegno Industriale Marche Abruzzo Molise ed i Musei Civici di Ascoli. La mostra raccoglie una selezione delle migliori produzioni del design marchigiano contemporaneo in un confronto storico di oggetti d'arte che testimoniano creatività ed ingegno. Nel pomeriggio, poi, nelle sedi della Scuola di Architettura e Design, prima è stata inaugurata la mostra XX SAD Design 1998-2018 e a seguire si è svolta l'assemblea plenaria delle delegazioni città creative UNESCO. L'intera giornata è stata parte integrante dell'iniziativa di Ateneo Il Bello di Unicam. Estrema soddisfazione per il percorso universitario e per il pronto inserimento nel mondo del lavoro. È questo il profilo dei laureati dell'Università di Camerino che emerge dal ventunesimo rapporto sul profilo e sulla condizione occupazionale dei laureati presentato nei giorni scorsi dal consorzio Alma Laurea. Ad un anno dal conseguimento del titolo, in linea con la media nazionale, il 68,4% dei laureati magistrali biennali Unicam è occupato e le performance occupazionali migliorano con il trascorrere del tempo dal conseguimento del titolo. L'88,1%, percentuale leggermente superiore alla media nazionale dei laureati intervistati a 5 anni dal titolo è occupato. Particolarmente positivo è invece il dato relativo all'efficacia della laurea che mette a fuoco l'effettiva utilità e spendibilità del titolo nell'ambiente del lavoro con una media di risposte pari all'84,6% che supera ampiamente quella nazionale. Estremamente positivi sono anche gli risultati sulla valutazione dell'esperienza universitaria e sulla soddisfazione espressa dai laureati. Il 92,3% dei laureati è soddisfatto del rapporto con il corpo docente e il 90,7% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso. Più in generale il 94,2% dei laureati si dichiara soddisfatto dell'esperienza universitaria nel suo complesso. Bene, io mi fermo qui per questa puntata è tutto. vi ricordo che le informazioni sull'Università di Camerlino sono disponibili sul sito internet www.unicam.it. A tutti voi grazie per essere stati con noi e buon proseguimento su TVG.